Prima un forte boato, poi le fiamme prontamente domate. Sono circa le 11 di mattina quando i cittadini di San Giovanni Tiatino allertano carabinieri e vigili del fuoco per un incidente avvenuto alla ditta Passeri Movin Tess RL di San Buceto in via Papa Giovanni XXIII, ditta specializzata nella produzione di costruzioni meccaniche. Dalle prime ricostruzioni a prendere fuoco sarebbe stato un bidone contenente residui di olio industriale su cui stavano lavorando due operai. Il boato e le fiamme avrebbero provocato escoriazioni ai due dipendenti, soccorsi dai sanitari di due ambulanze del 118 giunte sul posto che fortunatamente non sarebbero stati feriti gravemente. In oltre 50 anni di attività non è mai accaduto nulla di simile, mai avuta neppure una denuncia di infortunio, ha dichiarato il titolare di Passeri Movin Tess RL, visibilmente scosso per l'accaduto e preoccupato per i suoi dipendenti. La ditta, nata negli anni 50, è un'azienda meccanica specializzata nella movimentazione interna all'industria, in cui sono impiegati cinque dipendenti. Il boato, avvertito distintamente in tutta la zona di San Buceto, ha messo in allarme soprattutto i residenti. Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il sopralluogo, i sanitari del 118 per soccorrere i due feriti e i carabinieri per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Grazie. 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 Grazie.